Da qualche mese hai messo in vendita a casa ma non ottieni i risultati sperati. Il condomino del secondo piano ha venduto senza troppe difficoltà e tu niente, non riesci proprio a concludere. Che rabbia, tutti questi turisti a casa tua e poi gli sparisse tutti. Ti capisco, stavi procedendo serenamente sulla strada che pensavi ti portasse alla realizzazione del tuo nuovo progetto di vita ma adesso ti sembra di aver messo i piedi nelle sabbie mobili e pian piano, un po' alla volta, quell'entusiasmo che avevi all'inizio l'hai perso, del tutto o quasi. Allora non c'è tempo da perdere ma niente panico perché se non riesci a vendere casa un motivo reale, concreto, c'è di sicuro. Le cause principali che solitamente portano proprietari ad impantanarsi nel mercato sono queste. Decidere un prezzo sbagliato o fidarsi di una stima errata. Credere di saper far da soli, senza aiuti, affrontando il mercato alla cieca. Scusa eh, se ce l'ha fatta quella del secondo piano, io no. Scegliere un professionista primitivo e affidargli la casa. Analizziamo velocemente punto per punto. Primo aspetto, sbagliare il prezzo di vendita è un errore facile da commettere per un non professionista del settore. Di solito si guardano le case simili sui portali immobiliari, per farsi un'idea, e si decide che la propria è la più bella, più luminosa e i pavimenti sono nuovi. Da qui determini un prezzo che condanna la casa all'oblio commerciale. Non ti sei accorto? Anche le case che hai preso in riferimento non vengono vendute? Lo sai il perché? No. Quindi non sentirti in colpa. Per quanto riguarda il secondo punto, so che sembro di parte, ma è una conseguenza naturale del primo, ovvero scegliere la strada fai da te. Hai una strategia di marketing per promuovere il tuo immobile nel migliore dei modi e meglio degli altri? Sei in grado di dedicare il 100% del tuo tempo alla venda di un bene così importante o nel frattempo lavori, dai reti ai figli, la scuola e tutto il resto della quotidianità? E la gestione delle visite? La trattativa? Il recupero di tutte le carte? Riesci a verificarle da solo? È difficile che tu possa fare queste cose. Impossibile che tu le faccia al meglio. Non è il tuo mestiere. Terzo punto. Scegliere il professionista sbagliato e trovarti in una situazione ancora più peggiori di quella di prima. Per questo, per avere la certezza di fare tutto al 100%, la soluzione è farsi affiancare da un agente immobiliare che ti guidi e che ti possa offrire un metodo di vendita testato e garantito, in grado di migliorare l'immagine della tua casa. Questo è quello che Arcobaleno Consolente Immobiliari può offrirti. Un servizio di eccellenza unico sul territorio, tecnologie digitali avanzate, assistenza completa e senza stress. Affidati a chi ti garantisce la massima professionalità e visibilità per trovare il tuo acquirente ideale.